Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi facciamo il Lego con Leds10 e LOLGuy E' un video speciale perchè 3, 2, 1 Primo video in cui mostro la faccia LOL Allora, non so se i miei Se i miei video saranno sempre di gameplay Ovvero io che gioco Oppure pian piano diventeranno Vlogger, diventerò un vlogger Però per ora rimaniamo al gameplay Ci saranno tanti video così Adesso mostro anche LOLGuy No, non è vero Dai E invece no Lo faccio vedere tutti i giochi Ciao, sto giocando a biliardo Via, via Se ci fa Comunque, adesso Qua sono i miei video Che è Di Silver Che bella buca Che bella buca, faccio i miei video Dai, fai i miei video Sì, adesso le faccio i miei video Ma ho vinto Va che dimostrare la tua faccia se non fai i miei video? Ho vinto, ho vinto, vedete? Ho vinto, l'ho già mostrato un pochino Non troppo Allora, stiamo cercando un parabanghi Eccolo qua In pieno è molto l'ego Ci saranno tanti video Vlogger Il problema è che non è il massimo Visto che Per ora Non ho Un cavalletto Ma poi Allora, allora, allora Cosa Mi chiede un pezzo Come questo? Scusate Ma come si va a regolare l'olimista? Così, in teoria no Non va nemmeno Eccolo, in teoria questo? No Non è questo Questa? Non so perché Non mi farei un video di te che fai lì C'è un casino sotto Allora Dai un criticone De verità Adesso Invece di fargli il tuo Guardiamo lui che gioca Stizio che sto cercando di spaccare Va bene Va bene Non lo vediamo più perché non lo so Mi piace Ma davvero Ma non da Eh va bene Guardate Sto cucita Non so perché c'è un'accia C'è un'accia Guarda Ma andato subito in buca qua Ha fatto tipo Pum 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 E' andato subito in buca Deve metterlo a fuoco Eh va bene Ok Non so a fuoco in teoria Cioè guarda Adesso un momento Deve metterlo a fuoco Però Non so come Qui si intercetta Questa chiavetta Che non so di cosa sia E La carta di caramella Ma lasciamo stare Allora Adora 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 E usiamo Quello La mia voce Non è il massimo Visto che Ci sono Il rumore Di lego Quindi Mettete like Al video Iscrivetevi Adora Se non vi è ancora Fatto Per Un creeper Per Ucciderli E Oh Quel pezzo Allora Qui c'è Le cose Perché Telefoni L'all guy Telecamera Cioè Caricato L'olio Telecamera Perché Ha molto poco Batteria Soprattutto Quando fai video E' una E' una fotocamera Non è fatta apposta Per fare video Quindi Eh Però Vi lascio Un clip Poi Vi lascerò Il link In descrizione Al canale L'organe Se riusciremo Giocheremo Roblox Con lui Sto cercando Di convincere I miei amici A fare Gli youtuber Così potrebbero Che 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 Possono Anche Giocare Senza Gli youtuber Si Ma Così Posso Mettere Link In Descrizione Ah Giusto Per Lasciato Stare Mi Scusate Comunque Oh Non è lui Allora Mi serve Questo Allora 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 Poi Mi serve Questo Mettere Qui E Poi Il sedile Mettere Qui Ok Bene Adesso Lo stiamo Girano La pagina Niente Allora Scusate Se non si Vi viene Perché E' Poi Un po' Fatica Che Si Vi Camerano Tre Voi Poi Medie Allora Allora Cercare Cercare Eccolo Qua Ecco Allora Questo Qua E' quello Che Stai Uscito Auto Auto Pezzo Camerano Ok Qui Qui Adesso Dovremmo Trovarmi Un Ecco Eccolo Qui Grazie Questo Video Che Me Lo Fa Video Limitati Per Per Troppo Memoria Quindi Ho 9 Minuto Mancano 2 Circa 3 Quindi Però Adesso Continuiamo Appena Non C'erano 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 Ma Non Pensiamoci Adesso Direte Che Bel Video Che Sta Facendo Ma So Che Non Stare Bello Ma Vabbè Non Vabbè Dammi Una Mano Dice Giocare Poi Quando Faccio Quando Non Faccio Il Video Non Giochi Quando Faccio Giochi Allora Ho 18 Malissimo Poi che mostro la tua faccia Poi la mostro Oh 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 Tanto Sappiamo tutti che farà Che Cioè Sappiamo tutti che Loreguy Farà un video in cui mostrerà la faccia Non è vero Un giorno Un giorno Dovrai Fare Anche tu Direi che per oggi è tutto Vi spero che vi sia piaciuto questo video Dove Ne farò altri E quindi Vi saluto con un Ciao Ciao